ciao ragazzi ecco la evo micro la borsa serbatoio di svmotec da 2 litri e mezzo espandibile fino a 5 litri la vediamo all'interno abbiamo l'antipioggia il supporto per il talluk quindi per agganciarla sul tappo serbatoio abbiamo anche la punta il trapano questo è il supporto e va fissato sotto in questa posizione ovviamente secondo diciamo le vostre esigenze potete spostare la borsa leggermente più avanti o indietro in base alla a dove fisserete il supporto del talluk adesso prenderò rapidamente una misura sulla moto per vedere un attimo dove posizionarlo poi farò i quattro fori e quindi lo fissiamo iscriviti al canale